Ultimo appuntamento stagionale per la rassegna Libri da Vivere del Comune di Castel San Giovanni che ha ospitato a Villa Braghieri la concittadina Margherita Torretta per la presentazione del suo romanzo Rimmel, pubblicato da Pendragon. Rimmel è un romanzo di formazione e possiamo dire una storia autobiografica della mia esperienza di pianista ma soprattutto di donna. Il libro chiaramente si apre con la parte possiamo dire dell'adolescenza, dell'infanzia e prosegue fino a un'età adulta, fino alla mia età, percorre proprio tutte le tappe della vita di Sveva, dei suoi successi, delle sue cadute. Il libro racconta la sua storia di ballerina e poi quella di musicista e compositrice perché Margherita Torretta, prima che scrittrice, è una pianista internazionale che si esibita in oltre 20 paesi in Europa, Asia, America e Australia e che si divide ora tra l'Italia e Londra. Vivevo a Castel San Giovanni, sono nata a Castel San Giovanni, amo moltissimo il mio paese, e chiaramente poi per questioni lavorativi mi sono dovuta spostare all'estero e in particolare a Londra, io vivo a Londra da ormai dieci anni. È stato un passaggio molto doloroso in realtà perché per me lasciare il mio paese è stato uno strappo molto forte, però torno spesso a Castel San Giovanni.